è proprio carino certo lo conosco poco questa sera mi ha chiesto di andare a casa sua e se poi succede paura dell'aids per una volta all'aids basta una volta perché l'aids si trasmette attraverso rapporti sessuali con persone già infette evitiamo i rapporti occasionali o almeno in quei casi usiamo il preservativo aids se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti